Con Van Fleet e Joy, il generale Clark che succede a Ridgway nel comando dell'Estremo Oriente. Nel concedersi prima di assumere in Europa il posto di Eisenhower, Ridgway dice È una trasmissione di poteri, un saluto al fratello d'armi. Clark a sua volta afferma Dichiara di assumere con vivo senso di responsabilità l'importante incarico in cui continuerà l'opera del suo fraterno amico Ridgway.